Chi studia la storia dell'arte sa che una delle date più presenti nelle decorazioni dei palazzi romani è il 1571, anno in cui la flotta del Papa a Lepanto riesce ad arginare l'aggressione dei turchi. La minaccia musulmana viene rispedita al mittente e nelle dimore papaline il turco in catene diventa uno dei temi più frequenti. Ci vorranno secoli per restituire all'Islam la dignità di cultura antica e preziosa, dai valori profondi e dall'estetica raffinata. L'Ottocento, con il gusto per l'esotismo e i pittori orientalisti, costituirà il punto di svolta nell'iconografia dei rapporti tra cristianesimo e Islam. Sarà anche per questo che la contessa Lodigiani Gamberini accetta di vendere il proprio villino all'impero ottomano nel 1887, alla cifra di 950.000 lire, equivalente ad un valore immobiliare di circa 5 milioni di euro di oggi. O forse più semplicemente all'epoca a Roma erano davvero in pochi a potersi permettere tale spesa per un edificio di poco più di 2000 metri quadrati coperti. È evidente che il valore non doveva risiedere soltanto nella dimensione, ma soprattutto nella decorazione delle sale, che all'inizio del 1880 erano state commissionate dal conte Giuseppe Gamberini. Si tratta di uno dei primi cantieri privati post-unitari, dove il proprietario ha voluto circondarsi di stucchi dorati in puro stile rococò, che fanno da contraltare a esterni estremamente sobri e lineari. Quando l'ambasciatore turco è entrato nel villino, deve essersi sentito come a casa. L'atmosfera ricorda da vicino i saloni di palazzo Bayler Bay di Istanbul, uno dei più suntuosi sulla riva asiatica del Bosforo. Ancora oggi l'edificio ospita la sede di rappresentanza dell'ambasciata turca, uno dei luoghi più importanti per tessere un dialogo costruttivo con le culture del vicino Oriente.